buongiorno a tutti oggi si parte presto perché abbiamo un sopralluogo in svizzera con fede ciao fede e quindi si parte pronta contenta di esserti svegliata presto e partire con questo tempo poi fantastico bellissimo colazione con la fede anche lei con la scioccolata e poi partiamo eccoci arrivati in terra svizzera mega pioggia proprio miga praticamente da quando siamo partiti quindi si va pianino e piove ma comunque costa veramente poco in svizzera la benzina calcolando che il franco vale di più dell'euro mamma mia bene sopralluogo finito dato bene parlato col cliente come data fede altre cose da fare ottimo ottimo tutto qua in svizzera esatto esatto perché per chi non lo sapesse in italia abbiamo il data center di aruba mentre invece qua in svizzera abbiamo un data center privato qui sul territorio bene quasi arrivati alla dogana cominciano le colonne infinite infatti è tutto rosso camion su camion su camion e intanto che siamo in colonna per la dogana vi ricordo di visitare il nostro nuovo sito web svizzero www.hkstyle.ch dove c'è il nostro partner svizzero e tutti i servizi che eroghiamo dalla svizzera per la svizzera ciao fede che non arriva adesso arriverà tra un momento si ok 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 tra qualche giorno tra qualche giorno quindi stay tuned ed ok meglio ciao 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 Grazie a tutti.